Anziani nel merino di una giovane coppia di ladri romeni specializzati nei furti di gioielli. La tecnica utilizzata era sempre la stessa, chiedere informazioni e ringraziare con un bacio un abbraccio sfilando collane e orologi. Ma grazie alle segnalazioni dei cittadini e alle indagini delle forze dell'ordine sono stati arrestati dai carabinieri di Fano in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo radiomobile e della stazione di Colli al Metauro. Lunedì scorso i due malintenzionati di Buonora si erano recati a Lucrezia dove avevano preso di mira un uomo di 79 anni che stava facendo la sua solita passeggiata. Mentre il ragazzo era rimasto alla guida di un Alfa 147 grigia, la donna era scesa, aveva avvicinato l'anziano mettendo in atto la strategia ormai collaudata. Ma quando l'uomo aveva percepito le reali intenzioni della ragazza l'aveva minacciata di chiamare ai carabinieri mettendole in fuga. L'anziano però aveva ben memorizzato sia la coppia che targa e modello dell'auto e prontamente aveva allertato il 112. Grazie all'efficiente rete di sorveglianza della città nel cui database l'auto risultava già da ricercare, era stato segnalato l'ingresso della vecchia Alfa nel centro storico. I ladri infatti si stavano aggirando nelle strade attorno al centro commerciale di Via Togliatti. Nel frattempo ai carabinieri di Cogli al Metauro era giunta la segnalazione di una donna, 87enne di Ponte Murello, a cui poco prima una ragazza aveva portato via la catenina d'oro dopo averle chiesto aiuto per trovare lavoro come badante. Tra l'altro è emerso che la malvivente, ad ogni furto, si cambiava subito gli abiti per evitare di essere riconosciuta, ma aveva fatto male i conti perché le anziane vittime, nonostante l'età avanzata e i problemi di salute, hanno riconosciuto i due autori che sono stati arrestati in flagranza di reato e trattenuti nelle camere di sicurezza. Questa mattina i romeni, con una lunga lista di precedenti per fatti analoghi, sono stati giudicati dal Tribunale di Pesaro con il rito per direttissima. Messi di fronte alle chiare responsabilità, hanno scelto di limitare i danni, patteggiando la condanna a due anni e due mesi di reclusione, senza poter ottenere la sospensione condizionale della pena che, quando diventerà definitiva, dovrà essere scontata. Le indagini dei militari di Fano sono ancora in corso perché la collana asportata alla signora di Ponte Murello non è stata ritrovata. Si presume quindi che in giro ci siano ancora i complici dei due ladri seriali.